Direttore ci racconti la buona pratica che avete messo su insieme a Time Vision e che è oggetto della presentazione oggi alla Bursa? Noi siamo un'azienda di retail, abbiamo sul territorio nazionale oltre 300 punti vendita, più di 2000 dipendenti. Noi abbiamo sempre creduto che in realtà la formazione fosse in realtà il sale per il nostro futuro. Abbiamo incontrato Time Vision non più tardi di qualche anno fa, forse due anni fa, meglio tre in buona sostanza. Noi abbiamo apprezzato innanzitutto l'ampiezza del catalogo formativo che Time Vision si offriva. Questo perché? Perché quando abbiamo deciso negli ultimi due anni di potenziare in maniera importante la formazione all'interno di tutta la nostra organizzazione, l'abbiamo fatto con un criterio ben chiaro. Abbiamo individuato con i nostri responsabili di funzioni, quelle che erano le aree di miglioramento dei nostri collaboratori, abbiamo cercato di capire veramente quali fossero i loro bisogni formativi condividendo con loro questa prima forma di valutazione. Abbiamo individuato, come dicevo, da un catalogo veramente ampio, quelli che potevano essere elementi di potenziamento, di conoscenza, utili ovviamente a migliorare nel contesto lavorativo e poi abbiamo lasciato un 20% di libertà sul totale corso ai nostri collaboratori affinché potessero misurarsi con quello che meglio credevano potesse essere per loro un'opportunità di crescita. Devo dire che questo ha creato grande coinvolgimento, abbiamo formato un numero di collaboratori ampissimo e devo dire con risultati del tutto egregio.